A Roseto si torna a parlare della situazione relativa al mercato storico del giovedì situato nella zona del litorale. Dopo i lavori terminati su Viale Roma, mercato che comprende 47 stalli tolti quelli alimentari, è tornato proprio su Lugomare Celommi come da richiesta degli ambulanti. Alcune settimane fa però è montata la polemica sullo spostamento in Piazza Olimpia di esso per motivi di viabilità e logistica e a chiederlo era l'associazione turistica Roseto Incoming, di cui fanno parte alcuni albergatori rosetani. Ambulanti che però confermano la scelta attuale dell'amministrazione comunale, ovvero quella di rimanere sul Lugomare Celommi. Allora noi vogliamo rimanere qui perché crediamo che a Roseto non ci sia un posto alternativo per lo meno per quanto riguarda il mercato del giovedì. È un posto che è frequentato specialmente nel periodo estivo, è sicuramente un servizio ai villeggianti, ma principalmente non ci dobbiamo dimenticare che il mercato ha una funzione sociale, economica e turistica del posto, perché dà la possibilità, specialmente al centro di Roseto, che le persone con disabilità, le persone anziane, hanno la possibilità di poter avere un mercato vicino casa, sotto casa, dove possono fare i propri acquisti, perché non tutti hanno la possibilità di muoversi con l'unica cosa è che diciamo che essendo che qui sta sul Lungomare ci sono delle vie alternative che è stato studiato bene anche da parte dei vigili del fuoco insieme al comando della Polizia Municipale e Locale, che i divieti di sosta per far passare i mezzi di socco vengono rispettati. Questo non è solamente per noi ma per tutta la cittadinanza di Roseto.